Ciao amici benvenuti nel mio canale. Innanzitutto mi scuso per la voce ma sono un po' influenzata un po' tanto, sono stata senza voce due o tre giorni. Poi per il brusio della telecamera che purtroppo oggi mi va così, però ho ricevuto un pacco regalo dalla mia amica Cristal, Cristina del canale Cristal, vi invito ad andare a vedere il suo canale che è una ragazza tutta stravagante bella, carina, simpatica e mi ha mandato questo pacco. Volevo aprirlo con voi e ho trovato dentro c'è un biglietto per Laura, c'è un biglietto carinissimo con un gattino, cos'è un gattino, un che pardo, bellissimo e vediamo cosa c'è scritto, c'è scritto a te che mi hai aiutato a scegliere l'abbigliamento, a te che mi dai consigli d'oro, a te che sei mia amica, con affetto, Cristina, grazie di cuore, baci baci baci, bellissimo, grazie Cri, grazie, però non c'era solo il biglietto, andiamo a vedere cosa c'è nel pacco, allora, andiamo a tirar fuori il pacco, e andiamo ad aprire, oh, l'ha scocciato bene, Cristina, grazie, sono curiosissima di vedere che cosa c'è, oh, oh, vediamo un po' che c'è qua dentro, andiamo a vedere, oh, Cri, quante cosine, lo spazzolino di Hello Kitty, ma che carina, poi, ah, ma questa, ragazzi, questa è la bomboniera, è la bomboniera del matrimonio della Cri, con i confetti dentro, carina, è la sua bomboniera, vedete com'è bella, poi, ma quante cose, Cri, ma dai, che cosa c'è qua dentro, che c'è qua dentro, ho un ciondolino, così, Cri, grazie, amore, grazie, poi, ma quante cose, no dai, ti prego, questo cos'è, aspetta che lo vado ad aprire, questo cos'è, fatemi capire che cos'è questo, un portachiavi, un portachiavi, forse, eh, proviamo un po', scusate che prendo la forbice, cos'è, cos'è, Cri, spiegami che cos'è questo, ah, per la borsa, eh, non ci arrivavo, e per la borsa, bellissimo, anche questo, poi l'altro pezzo cos'era questo, questo cos'è, ma Cristina, quante cose, dialocchitti sempre, questo mi sa che è uno specchietto, ma Cri, ma non dovevi, tutti sti regali, uno specchietto, che bello anche questo qui, questo, questi sono degli occhiali, ma quante, quante cose, ah, è aperto di qua, quante cose, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a aprire, ah, no, ah, ecco, è la custodia per gli occhiali con il suo panno da pulirli, poi, non è finita, non è finita, non è finita, sempre gli occhietti, ahhh, dopo una manicure, ma sai che mi serviva Cri questo, ma sai che volevo prenderlo, ma che bello, grazie Cri, poi, non è ancora finita, ma quante cose, ah, questo è, fammi capire, fammi capire, cos'è questo, ragazzi, che cos'è, da mettere nella valigia, eh, anche questo non ce l'avevo, e l'avevo anche bisogno, da metterli nella valigia, più questo, che è, cosa sarà, cosa sarà, a una custodia, da mettere, che ne so, i documenti, degli appunti, da infilare qua dentro con delle teschine, grazie, e anche la scatola, anche la scatola è bella, con la sua scatolina, Cristina, bellissimi regali, ti ringrazio veramente di cuore, grazie, 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 e vi invito ancora una volta di andare a vedere il suo canale, il canale di Cristal, che lascio il link qua sotto, mi raccomando, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, vi saluto, al prossimo video, ciao!